Un weekend intenso, l'ennesimo ricco di suspense e di emozioni, ha caratterizzato il turno del calcio del Tante Irpino. Gli occhi puntati erano tutti sul match tra Cervinare e Palmese dell'Alegretto di Montesarchio, con i caudini di Giuliano che non sono riusciti nell'impresa a dibattere la seconda volta in stagione la capolista palmese di Pietro Pinto, che ormai, con il punto conquistato in Valle Caudina, ha blindato la vittoria del girone. Ci ha provato il cervo più volte, ma Stasi è stato bravissimo, come è stato insuperabile Scolavino, che ha negato per due volte il gol all'ex Palumbo. Crolla la polisportiva Leone, all'Iorlano, la cerrana dei mister di Buono, banchetta nel primo tempo grazie alle reti di Longo e alla doppietta di Minicone. Sul K.O. del Blaugrana pesano le disattenzioni difensive che hanno permesso ai Torri di andare in gol e soprattutto la scarsa vena degli attaccanti che non sono riusciti a battere d'inverno. Cave anche la Virtus Avellino al Piero di Saviano, 3-0 per i noroverdi di Belmonte, doppietta per Lombardi. In gol anche l'ex Sant'Omaso Giannino. Al Renzulli il grotto risorge e torna a strizzare gli occhi playoff. Cataruozzolo, Aquino, doppietta piegano la vista retrocessa nel campionato di promozione. I giallorossi di Cianamella tornano in corsa per la post-season nonostante i tanti alti e bassi. Il Lions è da favola, poca dal pomigliano nel segno del killer Luigi Dacirno. Con le reti del gobato il bomber di Grottolella sale a quota 13. Canavese, il solito Gaston Grande, porta nei gialloverdi lotta ai playoff. Il cittadino Avellino sbanca il campo della forza e coraggio. Grazie al Guizzo, nei minuti in finale di Tretola, Caruso trova il primo vitale successo della sua gestione. Vantaggio Sannita con Di Martino, poi Cacciottolo al decimo gol stagionale e Camponesco ribaltano la contesa. Pareggio ancora Di Martino, ma l'ex Matese è un fattore, porta tre punti d'oro agli Avellinesi. In promozione, passo falso del Solufra al Pertini, che non va oltre il pareggio contro i Castelpote. Perdo l'occasione di riaprire i giochi in campionato. Di Minopoli e Pappalardo, la marcatura dei Conciari. Tris del caro Tanuto, che riscatta il passo falso del Roca. Piegata, 3-1 alla Bisa accese, grazie a Schettino, Tedeschi e Pirone. Il Bellizzi frena Stambitaliano, ancora in gol Pugliese per Quaglia. Finisce 1-1, segna Napolitano per i Partenopei. In zona salvezza, clamoroso colpo del Cimitile in casa delle Mano Calzati per 5-4. Verdi sfortunati e ancorate al penultimo posto. Nolani, sempre più terzi, è rivelazione del campionato. Il Baiano ne fa 4 a San Martino, Valle Caudine, vede la salvezza. Mentre Ioli e Ciacciotti piegano la Bellinum e regalano al Montesarchio tre punti di vitale importanza.